Nuovo palazzetto di Cantù, l'amministrazione provinciale ha avviato la gara per realizzare il progetto. L'obiettivo è di vedere avviare il cantiere della casa del basket al più presto. Più di 5.000 posti a sedere, arena sportiva polifunzionale e tribune, campo di allenamento, spogliatoi e locali accessori e ancora uffici amministrativi della società, spazi commerciali, biglietteria e parcheggi. L'investimento totale da 50 milioni e mezzo di euro, di questi la maggior parte, circa 40 milioni, a carico di chi costruirà il palasport mentre il contributo pubblico sarà di 11 milioni, così ripartiti 4 da Regione Lombardia e altri 7 dal Comune di Cantù. La nuova arena è la prima grande operazione su area pubblica in Italia che ha ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi della legge sugli impianti sportivi, il parere positivo del CONI e della conferenza dei servizi. Ha spiegato il sindaco di Cantù Alice Galbiati, attendiamo fiduciosi l'esito della procedura di gara, auspicando l'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile. Il progetto è noto, nasce dall'esigenza della squadra di dotarsi di un impianto adeguato per le partite interne. L'arena sarà costruita in corso Europa, sulle ceneri del vecchio palazzetto, area che oggi versa in stato di abbandono e di degrado. Guardiamo con ottimismo agli importanti passaggi previsti nei prossimi mesi, sottolinea Roberto Allievi, presidente della pallacanestro Cantù. La nuova arena rappresenta per noi uno snodo fondamentale per il futuro, non solo per riabbracciare la totalità del pubblico, ma anche per sviluppare un nuovo modello di sport business. Questo progetto rappresenta un passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture sportive del territorio e nel sostegno delle attività agonistiche di alto livello. Un investimento per il futuro, chiude Fiorenzo Bongiasca, presidente della provincia di Como.